carissima regina della pace la tua collina delle apparizioni è vuota non ci sono i pellegrini perché i confini sono ancora chiusi ma la nostra fede ci insegna che l'amore la preghiera la fiducia non ha limiti per questo veniamo qui a pregare per tutti quelli pellegrini che vorrebbero venire ma non possono vogliamo pregare in questo momento per tutte quelle persone che sono triste perché non hanno incontrato l'amore di dio preghiamo per i sacerdoti che hanno perso di vista il loro primo amore per te maria e per la chiesa preghiamo che tu possa ripescare questi sacerdoti e ridare gioia entusiasmo fede per il loro servizio preghiamo per i genitori che litigano che non si amano più possa tu regina della pace riportare pace riconciliazione perdono in queste relazioni che soffrano preghiamo per i bambini di questi genitori che devono sopportare queste situazioni difficili e dolorose preghiamo per questi fili che sicuramente hanno tante ferite possa tu guarire questi cuori maria e riportare tranquillità e serenità ti affidiamo maria soprattutto i nostri genitori che hanno dato la vita per noi possa tu ricompensare loro tutto il bene che ci hanno fatto e donato preghiamo per i giovani che sono disorientati nella loro vita perché non conoscono dio non conoscono te maria intercedi tu per loro che possono ricevere il dono della fede affinché che hanno una direzione per la loro vita un fondamento su cui costruire il loro futuro e alla fine preghiamo per il nostro papa francesco che sia guidato sempre dallo spirito santo e nelle sue ore difficili possa essere consolato da te e alla fine preghiamo per tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori e di cui solo maria e il cielo sanno abbe maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prego per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte te amo guspa maika moia kralitsa mira 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 saluruda mi chugarie direttamente dal potpador ave maria saluruda mi chung